Cari telespettatori di Fano TV, oggi torniamo a parlare di biologico a tavola perché all'agriturismo Casal San Sergio a Fossombrone si terrà un convegno sul biodistretto, un convegno che è stato organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Pesero Urbino e dalla Camera di Commercio delle Marche. La Camera di Commercio ha detto investe tanto su questo territorio attraverso bandi, ha dato anche delle cifre sulle risorse messe in campo, quali sono? Le cifre sono importanti, oggi siamo qui con la CIA parlando di bio, è un argomento importante che speriamo e ne siamo sicuri che la nuova azienda speciale che abbiamo costituito sull'agra alimentare dove il dottor Santi e il vicepresidente possa intervenire su alcune fiere che riguardano e valorizzano le imprese che già lavorano sul biologico. Ricordiamo che nello scorso anno insieme all'assessore Casini abbiamo partecipato a delle fiere importanti sia in Italia che in Europa, ricordo la Nuga a Colonia e proprio le scorse settimane abbiamo avuto la possibilità di avere qui con noi dei buyer del nord Europa che hanno potuto avere la possibilità di collegarsi e di vedere e conoscere i prodotti di un centinaio, cento, centotrenta aziende che hanno partecipato a questi B2B sia a Iesi che nel sud delle Marche ad Offida e gli operatori sia stranieri che italiani erano molto felici su questo. Lo abbiamo riproposto per gli operatori americani e canadesi, anche lì è andata bene. Con l'assessore Casini stiamo ragionando su un nuovo progetto da fare nel prossimo anno, all'inizio del prossimo anno, anche di incoming perché anche questo dà la possibilità ai nostri operatori di poter conoscere questi buyer, ma in bar di potersi emozionare conoscendo il territorio marchigiano che è sempre un territorio che riesce a trasmettere un'emozione particolare anche quando vai a proporre dei prodotti che tu vuoi vendere. Come Camera di Commercio abbiamo proprio ieri approvato in giunta il bilancio di previsione 2020 nei vari studi che la struttura con il segretario generale Stiavone ci hanno presentato nei dati analitici. La nostra Camera di Commercio, che è la quinta d'Italia come dimensione di imprese scritte alla Camera di Commercio e la più grande come estensione territoriale, riesce a riversare sul territorio regionale più del 35-34% di quello che noi ingassiamo come contributi del mondo associativo, delle varie imprese. È un valore molto importante, molto alto perché teniamo conto che Camera di Commercio come Milano, Roma, Torino, Bologna hanno dei valori molto inferiori ai nostri, pur contenendo anche la spesa del funzionamento. Perciò ecco, questa è una Camera di Commercio che la spesa del funzionamento ha un'incidenza di circa, se non ricordo male, sui 3 milioni e 6 netta che abbiamo come Camera di Commercio. Altre 3 milioni e 6 non li versiamo allo Stato, tra tasse, tra vari prelievi che loro fanno, tra i contributi che diamo al sistema camerale nazionale e a quelle Camere di Commercio con i fondi perequativi che sono in rigidità del bilancio. Perciò è una grande struttura la nostra, una struttura che purtroppo in questo momento non è tutelata da un sistema legislativo che prevede un'estensione territoriale così grande, è la grande difficoltà di questa Camera di Commercio che purtroppo non c'è una normativa di legge, siamo ancora fermi al palo su una riforma delle Camere di Commercio, dobbiamo aspettare quello ma nel frattempo noi dovremo andare avanti. Allora tra mille difficoltà burocratiche e di normative che non tutelano questo ente che noi tutti abbiamo voluto, però riusciamo ancora a mettere in campo 10 milioni di euro per il mondo imprenditoriale e compresa le aziende speciali. Dobbiamo anche ringraziare la Regione Marche, l'assessore Bora e tutti gli assessori che partecipano con noi su alcune dinamiche con il Presidente Ceriscioli perché tramite loro abbiamo per il 2020 2 milioni e 9 di entrate aggiuntive che loro hanno messe in campo su questa Camera di Commercio per questo anno proprio per valorizzare l'internazionalizzazione e la promozione, per valorizzare tutto quello che si fa a livello turistico con le amministrazioni, per valorizzare l'alternanza scuola-lavoro, per valorizzare l'innovazione. Ecco, sono tanti punti che abbiamo messo in campo insieme a loro. Su tutto questo siamo contenti, riusciamo ancora ad assistere il mondo imprenditoriale. L'unica pecca enorme purtroppo è una riforma camerale che non tutela la nostra entità di sistema camerale così vasto. Speriamo che la parte politica riesca a capire che la riforma deve essere completata e nel riformare le Camere di Commercio si devono ricordare che questa estendizione territoriale è più grande di una Camera di Commercio metropolitana che può essere Roma, Milano, Torino o Napoli perché lì i perimetri sono quelli della città e noi invece, se ci muoviamo da Ascoli fino a Pesaro è molto più distante di quello che può essere Roma da un lato e da un altro. Ecco, allora tante dinamiche devono essere riviste purtroppo su un sistema camerale che tutti quanti il mondo imprenditoriale e associativo, compresa la Regione, hanno voluto per le Marche. È molto importante quello del via a tavola, siamo alla decima edizione ormai è una delle poche che ci sono rimaste, purtroppo come ricordavo prima i contributi della Camera di Commercio non sono più quelli di una volta a quel che vuole dire il Presidente della Camera di Commercio prima c'era anche molta più semplicità per avere questi fondi, quindi diciamo adesso dietro progetti e c'è un pochino più di lavoro per poter ottenere questi contributi. Comunque, grazie alle Camere di Commercio che ancora investono sul territorio e che ancora investono sulle aziende agricole. Il bio ci sembra, come ricordavo prima, la provincia di Peso Rubino è un po' la culla del biologico quindi ci sembra un'eresia non creare e non riuscire a creare un distretto del biologico su questo territorio come ci spiegava il Dottor Luciani, dobbiamo cercare di unire più aziende possibili e più settori possibili quindi un'idea, uno spunto che è venuto stamattina, quello di unire il biologico con la cultura, con il turismo quindi creare un distretto che possa coinvolgere più settori e possa attrarre più persone quindi non solo l'amante del biologico ma anche l'amante della cultura e del turismo che poi venga ad assaggiare i prodotti biologici di questo territorio. Le aziende le abbiamo, quindi aspettiamo un po' di capire come poter creare questo distretto per metterci in moto e coinvolgere un pochino tutta la provincia. Ci sono invece alcuni aspetti tipo il ruolo degli enti locali che pure è importante quindi se stabilire una obbligatorietà o meno della presenza degli enti locali. Abbiamo avuto anche voci contrastanti lì perché poi c'è il timore che cambia l'amministrazione e magari alcuni comuni possano sfilarsi da un'iniziativa quindi anche qui bisogna ragionare perché ci possono essere poi strada facendo tanti impedimenti, tanti ostacoli. E poi il discorso sulle attività complementari, quindi che cosa metterci oltre alla produzione agricola e alla trasformazione e alla commercializzazione. Che cos'è un biodistretto e anche quante tipologie sono disponibili? Il biodistretto di fatto si cala all'interno di una normativa sui distretti del cibo che prevede otto tipologie di distretti e di fatto è quello che maggiormente guarda al rispetto dell'ambiente, quindi il biodistretto insieme anche ad altri prodotti di qualità che poi possono far parte di questo territorio è uno strumento molto interessante perché può consentire uno sviluppo che allo stesso tempo permetta di conseguire risultati sia dal punto di vista di un incremento della produzione, del valore aggiunto delle produzioni di qualità certificata, ma anche un collegamento con altre attività produttive come può essere esempio il discorso del turismo, ma anche dell'artigianato, della cultura. Quindi si tratta di valorizzare un territorio per tutte le potenzialità che esso ha a partire da una peculiarità che può essere appunto quella della produzione biologica in questo territorio di Fossombrone, in po' tutta la provincia di Pesaro Urbino comunque nasce e partire da questa caratteristica per poter valorizzare tutte le altre potenzialità del territorio. Possono essere coinvolti anche gli antilocali? Gli antilocali è previsto che abbiano una parte attiva nella costituzione del distretto quindi è importante creare una correlazione positiva tra pubblico e privato da questo punto di vista e quindi ben venga un ruolo attivo degli enti perché è necessario che si mettano insieme tutte le politiche che si possono realizzare in un determinato territorio. Stiamo cercando anche di capire se ci sono degli elementi comuni che siamo sicuri che poi da Pesaro ad Ascoli saranno sempre presenti altrimenti dobbiamo andare con una individuazione di un minimo alcuni, un numero di attività extra agricole che devono essere presenti. È il caso di evidenziare comunque che un prodotto biologico ha sicuramente dei valori nutrizionali più alti rispetto a un prodotto convenzionale quindi bisogna far capire al consumatore che può fare a meno degli integratori perché tutti siamo, per la maggior parte, anche durante questo periodo magari si prendono integratori per non prendere l'influenza eccetera se uno magari mangiasse dei prodotti che hanno sostanze nutritive più alte sicuramente si ammalerebbe prima. Io ho fatto l'esperimento in casa con mia figlia quindi a 12 anni non ha mai preso un antibiotico quindi si funziona senza essere ovviamente ortodossi perché comunque un minimo di flessibilità bisogna averlo però sicuramente avere una buona informazione sulla qualità degli elementi biologici è importante. Poi bisogna comunque considerare che anche il paesaggio ne acquisisce comunque un valore aggiunto in più perché comunque l'agricoltura biologica garantisce la biodiversità e quindi già di per sé avere degli insetti in un campo già quello comunque crea armonia per quanto magari in agricoltura convenzionale possono dar fastidio in agricoltura biologica questo non avviene a parte che comunque le specie che vengono seminate sono molto più robuste hanno delle caratteristiche diverse quindi non vengono pregiudicate da questo però d'altro canto se il consumatore deve capire che un prodotto biologico fa bene alla salute dall'altra parte deve capire che se la caratina è un po' storta cioè la deve accettare così com'è se la mela ha un buco la deve prendere così com'è se nella pasta gli capita che c'è una farfallina può capitare perché comunque l'impatto diciamo che non c'è chimica quindi è facile usare la chimica uno prende e io posso confermare insomma invece nel biologico bisogna avere una cultura molto diversa quindi dico bisogna educare il consumatore ma bisogna educare anche il coltivatore perché comunque vanno avanti la ricerca scientifica come dicevo prima non c'è supporto di ricerca scientifica quindi occorrono i soldi quindi è importante avere una legge sul biologico nazionale che dia dei soldi agli agricoltori uno per avere dei sistemi adeguati e due anche per la tecnologia perché vediamo che gli agricoltori utilizzano proprio dei mezzi proprio dell'anteguerra cioè mio padre aveva una cava io vedo che vanno con i mezzi con i caterpillar a lavorare cioè mezzi di 40 anni fa e quindi non va bene quindi bisogna stimolare anche chi lavora la terra bisogna dare i soldi bisogna dare i soldi per investire in tecnologia perché è importante quindi come ho detto Le Marche è stata la prima regione d'Italia ma anticipata addirittura l'Europa di 13 anni col metodo dell'agricoltura biologica alla fine siamo tutti più indietro cioè qui poi non c'è spirito di collaborazione qui l'aggregazione non c'è ognuno fa come gli pare cioè vediamo qua ci sono le cooperative una va a destra una va a sinistra c'è una speculazione economica enorme e si danno soldi a filiere si danno soldi ai consorzi ma non si danno soldi agli agricoltori e invece servono i soldi cioè gli agricoltori hanno bisogno di soldi Orienta il sistema produttivo verso i sistemi che fanno rete che fanno sistema e nelle Marche c'è bisogno di fare rete di fare il sistema Treni ha detto fondamentale ragionale per distretto come anche scelta strategica della comunità non fermarsi a livello provinciale ma avere una visione anche a livello regionale fare sistema appunto è strategico Sì sicuramente diciamo che la nuova politica agricola comune sostiene tutti i progetti che hanno una visione di sistema quindi diciamo che i due percorsi principali sono i percorsi di filiera che assecondano più come dire la capacità delle imprese di coniugare la sostenibilità ambientale con quella economica e questo diciamo è una priorità diciamo importante ovviamente ma c'è anche appunto questa diciamo questa priorità che deve essere comunque assecondata dalle imprese agricole che vogliono comunque investire quella cioè di ragionare a livello di distretto e cercare di sviluppare tutte diciamo le politiche che possono creare delle sinergie tra la politica agricola e le politiche che impattano sul territorio come le politiche culturali sociali turistiche quindi occorre favorire processi di partecipazione tra aziende private e anche enti pubblici capaci quindi di sviluppare delle politiche che impattano sul territorio è certo che i distretti nascono con una visione probabilmente localistica provinciale però potrebbe essere secondo noi strategico che questa visione si estendesse a tutta la regione Marche per cui anche se nasceranno magari distretti o biodistretti a livello provinciale fare in modo che questi biodistretti possano avere una visione di sistema regionale perché quando poi si va all'estero a promuovere il territorio all'estero ci conoscono quando va bene come regione Marche e questo aspetto va enfatizzato poi è chiaro che ci deve essere una capacità di declinare le nostre diversità in maniera positiva ma senza creare dei campanilismi che diciamo in un contesto attuale sembrano veramente inadatti ma nella sostanza che cosa cambierebbe per le imprese che cosa può servire questo biodistretto ma diciamo che un biodistretto qualora appunto ci sia un gruppo promotore e quindi ottenga il riconoscimento può presentare i progetti volti quindi sia alla informazione quindi alla promozione verso i consumatori ma anche i progetti capaci di attirare risorse per degli investimenti strutturali per quindi valorizzare la propria produzione e quindi andare sul mercato con dei prodotti finiti e questo diciamo per assecondare più l'aspetto più economico commerciale dall'altra parte c'è la possibilità di presentare delle azioni capaci di sviluppare quelle sinergie con le politiche sociali culturali turistiche e quindi in un certo senso creare veramente una sorta di sviluppo rurale dove l'agricoltura fa da volano fa da diciamo elemento che catalizza altri diciamo aspetti strategici per lo sviluppo di un territorio è chiaro che creare partenariati pubblico privati non è che sia facile quindi occorre sia diciamo la capacità delle amministrazioni pubbliche di capire l'importanza di questo strumento dall'altra parte servono anche delle imprese che sappiano fare sistema e che abbiano una visione quindi non solo legata alla propria azienda ma una visione di territorio e di comunità e c'è sotto la percentuale è semplice l'etichetta da spare quanta parte va al prodotto quanto al trasformatore quanto allo stoccatore quanto al distributore e quanto al negoziante per cui esiste Presidente questa mattina Fossombrone per parlare di biologico per parlare di biodistretti ma non solo è sicuramente fondamentale puntare sull'innovazione certamente l'innovazione dentro ha quel quadro che io chiamo agroecologia che comprende tutte le attività umane e non umane sono anche voglio dire attività meteorologiche per certi aspetti meteorologiche lo cito non a caso perché voglio dire rispetto a un sistema che salvaguardava l'acqua salvaguardava i terreni per conservarla quando serviva o quando veniva in eccesso quello è un aspetto agroecologia vuol dire favorire l'acquisto e la diffusione di trattori elettrici ci sono dei trattori elettrici a quattro ruote motrici che hanno otto ore di autonomia operativa vuol dire non inquinano si ricaricano la notte attaccandoli in azienda o a casa comprese normali non consumano gasolio voglio dire hanno una serie di vantaggi non indifferenti ci sono per differenza ma quello è un aspetto si parlava di magazzini di essicatori che magazzini che possono avere luoghi per l'essicazione che possono funzionare semplicemente con pannelli fotovoltaici per fare il calore che serve per essiccare i prodotti e quella è una cosa per cui l'azienda biologica è un tastello importante perché è diffusore di una certa cultura che va nel sociale credo che il 100% delle aziende agricole e sociali siano aziende biologiche non è casuale in cui si convolgono persone c'è il recupero il recupero edilizio se ne ha parlato a Fabriano il recupero edilizio rurale abbiamo migliaia di casali abbandonati nelle campagne che possono ritornare a essere funzionali possono essere recuperati in modo sostenibile rendendoli energeticamente autosufficienti facendoli diventare addirittura produttivi per cui non solo a case in cui abitare in cui far abitare di nuovo le persone che possono essere giovani persone che stanno in città non sono più contenti possono essere gruppi familiari di migranti o dove si può fare accoglienza ma renderli produttivi non devono essere degli ospizi che ne so io voglio dire tenendo conto e faccio sempre gli esemi pratici che i casali hanno generalmente un'area che va dai 1000 ai 5000 metri quadrati attorno che può essere usata per fare culture ad alto reddito erbe officinali voglio dire e il tutto in una rete perché chiaramente se uno da solo si mette a fare erbe officinali forse ha poco non è facilitato a vendere le sue erbe officinali in Germania se ci sono 10 casali che ne so in un'area di un chilometro quadrato invece forse possono fare possono fare rete voglio dire sono tutti io cito questi macro aspetti estremamente interessanti per la salvaguarda del territorio parliamo sempre di territorio sappiamo che non so esattamente la percentuale di popolazione che vive lungo le coste l'Italia è costituita per il 70% da territorio marginale che vuol dire collinare ma tutte le persone scendono gli appennini sappiamo che si sono spopolati un po' per i terremoti un po' per tutte le vicende economiche che conosciamo dello sviluppo italiano laddove esiste una possibilità che è la nostra ricchezza di ritornare nelle montagne ma ritornare diciamo nelle montagne nelle zone montane e interne per produrre la massima qualità possibile a Bruxelles io lo cito sempre c'è una cartina con la biodiversità in Europa noi abbiamo una cartina nera ma non è nera nera perché siamo i più ricchi di biodiversità di varietà pedoclimatologiche che vuol dire che dall'Alto Adige alla Sicilia possiamo produrre praticamente tutto quello che si può produrre diciamo alimentare poi non è solo alimentare parliamo di canapa di sanità adesso si sta lavorando a un PSR per per produrre la fibra di altissima qualità dalla canapa una cosa che non si fa più del 1958 che nessuno al mondo più fa e si studia un modello replicabile per le varie ragioni voglio dire gli aspetti sono davvero molti e tutti questi rientrano in quello che appunto definiamo come agroecologia cioè un ambito che può essere territoriale che dovrebbe essere diffuso dovunque e che nelle marche trova davvero molta attenzione io spesso sono a Bruxelles al gruppo di lavoro sull'agricoltura biologica e le marche saranno perché io le racconto cerco di raccontarle al meglio le esalto un po' sono riconosciute come un luogo un luogo di alta qualità e non è casuale che i tedeschi gli svizzeri vengano qui a produrre le sementi per poi acquistarle e così via voglio dire una volta ero a Gheo in Gheo e ho aperto una cartina con le specificità alimentari le qualità le particolarità alimentari delle marche e l'intervistatrice insomma la conduttrice è rimasta stupita dalle cose incredibili che da noi si producono detto questo vengo al tema del giorno che è quello dei biodistretti o dei distretti dell'agroalimentare Sindaco nel suo intervento diceva giustamente che questo territorio è a forte vocazione biologica si è detto favorevole a questo tipo di distretto forse quello che manca diceva è un po' di credibilità dobbiamo promuovere sempre di più il territorio provinciale e regionale parlavo appunto della credibilità che dobbiamo avere come istituzioni come organizzazioni agricole rispetto agli agricoltori perché gli agricoltori e tutti gli attori che possono ruotare intorno al tema sul tema di un distretto che di fatto già esiste che dobbiamo solo classificare con i regolamenti regionali che stanno uscendo con appunto perché noi siamo un distretto già del biologico però diciamo che tutte le aziende agricole anche quelle che oggi fanno convenzionale stanno pensando di trasformare le proprie aziende perché vedono una sostenibilità anche sia dal punto di vista ambientale ma anche economico delle aziende che fanno già agricoltura biologica perché nella nostra provincia ma anche nella nostra regione ma particolarmente nella provincia di Pesaro c'è una concentrazione non solo di coltivazione di prodotto biologico ma anche di trasformazione nelle cooperative nelle diverse cooperative che già esistono e che nei decenni passati sono state costituite e si sono rafforzate oggi fare realizzare un distretto in un areale dove già si è diversificata la produzione perché certe culture come i legumi le lenticchie i ceci il seme di lino la canapa tantissime produzioni il farro che non si facevano più nei decenni passati sono tornate in auge proprio in questi territori faccio un esempio tra tutti il miglio il miglio e veniva coltivato in Italia e anche in quest'area tantissimo prima dell'evento del del mais negli anni 500 oggi è tornato a coltivarsi in questo territorio quindi questo territorio dove c'è un'alta concentrazione di produzione anche di erba medica che è una miglioratrice per i terreni abbiamo già un areale territoriale di tutta la nostra provincia ma specialmente nelle aree interne dove si può realizzare un prodotto di alta qualità quindi quest'alta qualità in un distretto veramente si sposa benissimo e possiamo distinguerlo da tutto il resto delle produzioni agricole del mondo dove insieme alla produzione agricola si può sviluppare di più la trasformazione di più il commercio di più le società e le aziende che fanno artigianali anche legate a tutta la filiera della produzione agroalimentare quindi è chiaro che io sono fortemente convinto che questo distretto va fatto va condiviso con le aziende agricole prima di tutti il compito è nelle istituzioni per fortuna la nostra provincia con il suo presidente Giuseppe Paolini ci crede molto le unioni montane ci stanno lavorando le cooperative della quale una sono presidente anch'io Terra Bio ma tutte le altre cooperative Montebello Girolomoni appunto Terrecelo Prometeo tutte aziende che trasformano questi prodotti locali queste materie prime locali credo che facilmente riusciremo a dargli una connotazione per dire ai nostri consumatori che questo è un areale particolare dove si fa un prodotto di alta qualità e soprattutto c'è una diversificazione di produzione che appena vent'anni fa non c'era più Figliere Tiziano scusa già ce le abbiamo di fatto perché abbiamo le più importanti diciamo una delle più importanti noi riteniamo che l'agricoltura del futuro sarà sempre più indirizzata verso il biologico verso le produzioni biologiche anche perché c'è oramai convinzione comune che l'ambiente è diciamo un elemento fondamentale per la vita degli individui e noi sappiamo che il biologico non sfruttando nessun prodotto di sintesi chimica ma è fatto tutto al naturale sicuramente ne ricava un beneficio anche l'ambiente oltre questo chiaramente vogliamo trasmettere sempre grazie a voi ai consumatori che consumare biologico significa non spendere anche di più perché c'è spesso e volentieri nella convinzione comune che acquistando un prodotto biologico si spende di più e quindi risparmio no perché poi gli elementi che ci sono all'interno di questi prodotti sono gli alimenti nutritivi in maggior quantità presenti e quindi mangiando un po' di meno si ha lo stesso tipo di risultato importante anche fare sinergia quindi fare rete tra imprenditori per cercare di promuovere il biologico questo è scontato diciamo che le marche da questo punto di vista hanno un po' di vantaggio rispetto agli altri perché il biologico possiamo dire noi siamo stati la culla del biologico abbiamo alcune realtà territoriali dove il biologico nasce dall'inizio dove anche è riuscito a svilupparsi con sistemi di filiera trasformando avendo aziende che sono leader a livello nazionale ed internazionale molti dei nostri prodotti vengono appunto esportati all'estero soprattutto nei paesi nord grazie diciamo a 25 30 anni fa dove sono nate già imprese importanti che trasformano e assemblano il biologico quindi siamo una regione all'avanguardia siamo una provincia all'avanguardia Urbino per come voglio dire nasce il biologico diciamo in questa realtà nella realtà dell'Urbinate al fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80 e si sta come dire evolvendo sempre di più ogni anno ci sono non solo i consumi maggiori anche moltissime aziende che convertono le produzioni con questo metodo grazie a tutti